Saluto con molto piacere e ringrazio di essere qui a parola d'autore Giuseppe Vacca che è venuto a parlarci del suo ultimo volume dal titolo Vita e pensieri di Antonio Gramsci 1926-1937 edito da Einaudi. Non credo che Vacca abbia bisogno di parole e di presentazioni, dirò soltanto che attualmente è Presidente della Fondazione Istituto Gramsci di Roma e della Commissione Scientifica dell'edizione nazionale degli iscritti di Antonio Gramsci, notissimo storico del pensiero politico, nel corso di parecchi anni, di molti anni ha dedicato vari contributi a molti studi a Gramsci, sicché possiamo senz'altro dire che è uno dei massimi esperti nel profilo del rivoluzionario sardo e del suo pensiero. Ora Vacca in questo suo pensiero di Gramsci dal momento del suo arresto avvenuto nel 1926 fino all'istante della sua morte nella primavera del 1937 e lo fa con un accuratissimo essai per spicco uso delle fonti, essenzialmente ma non solo il carteggio gramsciano consegnato al corpus delle lettere e gli scritti di Gramsci invece contenuti nei quaderni del carcere. Lo scopo, scrive Vacca nella sua prefazione, cito, è stato quello di fondere in un unico racconto gli affetti privati e la vicenda politica di Gramsci. Naturalmente questo nel tentativo di dar conto di tutte le molteplici dimensioni della questione. Nesce un quadro intellettualmente, politicamente, culturalmente e umanamente ricchissimo, del quale c'è impossibile naturalmente dar conto nel breve tempo che abbiamo a nostra disposizione e non resta senz'altro che invitare i nostri ascoltatori a leggere il volume. Proviamo comunque ad estrarre alcuni temi. Innanzitutto, Vacca, una prima questione. Due figure, ognuna di loro di per sé d'eccezione, assicurarono il rapporto del carcerato Gramsci col mondo esterno e col suo partito, il Partito Comunista Italiano. Sono la cognata Tatiana Schucht e lo studioso Piero Sraffa. Sono un collegamento sono anche però un filtro e tu indaghi molto da vicino modalità e limiti di questi tramiti. Sono un collegamento scelto dallo stesso Gramsci perché subito dopo l'arresto, avvenuto l'8 novembre del 26, lui fu spedito a Ustica al confino e poi 17 giorni dopo fu spiccato un mandato di cattura, cominciò la serie dei processi, ma già a Ustica per il tempo breve, tempo che lui spese, individuò in Tatiana Schucht, che era sua cognata, la sorella di sua moglie, che era diventata la sua collaboratrice da meno di un anno e riconosciuta anche dagli altri compagni come una specie di segretaria. E in Piero Sraffa i tramiti da lui scelti non solo perché godevano della fiducia sua e dei suoi compagni, ma anche perché non ne aveva altri possibili, in quanto sul continente, come avrebbe detto nella sua lingua sarda, non viveva nessun altro familiare e quindi la cognata invece sì, che era al tempo stesso funzionare dell'ambasciata, parente che quindi poteva accedere facilmente a lui e Sraffa che non era ancora immigrato a Cambridge in Inghilterra, dove si trasferì l'anno dopo perché perseguitato dal fascismo e quindi ebbe riparo presso Keynes. Tramiti diventano qualcosa di più quando dopo la condanna di Gramsci, avvenuta il 4 giugno del 28 a una lunga carcerazione ed essendo una preda Gramsci assai ambita nelle mani di Mussolini ed essendo il capo del Partito Comunista, peraltro eterodosso e già in disgrazia presso l'internazionale, Togliatti centralizzò il traffico epistolare delle informazioni che arrivavano a Gramsci e che partivano da Gramsci e quindi Tatiana per un verso che era in contatto diretto con Gramsci e riferiva a Sraffa e gli trasmetteva la corrispondenza quasi sempre in codice perché passava per due regimi di censura, quello fascista e quello sovietico. Sraffa che poi andando e venendo da Cambridge in Italia 3 o 4 volte l'anno passava per Parigi andava al centro estero e riportava queste lettere quasi sempre corricopiate da Tatiana in copia, divennero i tramiti che consentirono a Togliatti di gestire questa complessa vicenda del prigioniero. Due questioni cruciali dominano, mi pare si possa dire, il volume che hai scritto e che sono due questioni certamente intrecciate, distinte ma intrecciate, sulle quali tu getti una nuova luce, facendo giustizia di molti persappochismi e di molte letture anche interessate e forviante che sono state date. La prima è la questione dei vari tentativi messi in atto per liberare Gramsci. Questo fu uno, l'essere tramite di questi tentativi fu uno dei compiti più sofisticati a cui potei attendere Piero Sraffa che tra l'altro oltre ad essere un grande intellettuale ed un amico in realtà era un associato di fatto almeno dal 1924 al vertice del Partito Comunista d'Italia sebbene non iscritto, un comunista non iscritto ma riconosciuto quasi pari grado, alla pari da Gramsci, da Togliatti, da Tasca e poi via via da Grieco etc. Perché fin dal primo tentativo che nacque per suggerimento dello stesso Gramsci che aveva avuto un'imbeccata nel carcere di San Vittore a Milano nell'estate del 1927 che il Vaticano poteva intermediare uno scambio di prigionieri e chi recepì il messaggio e lo trasferì al partito fu Sraffa. Così come fu dal gennaio 1933 in poi il tramite invece di un mutamento di rotta voluto dallo stesso Gramsci circa il modo di perseguire la propria liberazione e cioè attraverso rapporti diretti fra Stato e Stato, cioè fra il governo italiano e il governo sovietico, fra Stalin e Mussolini per semplificare, proprio per il fatto che dopo l'avvicinamento e poi l'avvento di Hitler al potere i rapporti fra Germania, fra l'Italia e l'Unione Sovietica tendevano ad avvicinarsi come si avvicinarono alla fine del 1933 con la stipula di un trattato di amicizia e di collaborazione. Il 2 settembre del 1933 Gramsci riteneva che in quel contesto fosse più possibile ottenere una liberazione attraverso scambio di prigionieri o addirittura per apparente atto di liberalità unilaterale di Mussolini, ma in realtà trattato dal governo sovietico e per questo attraverso Sraffa, ecco ancora un altro compito delicato di Sraffa, inviò il messaggio a Togliatti perché garantisse che il partito restasse fuori da questi tentativi perché tutte le volte che il partito avrebbe potuto vantarsene è chiaro che Mussolini sapendolo non poteva accedere ad alcuna trattativa. Complessivamente i tentativi noti e forse anche quelli ignoti, non ancora noti, non dettero il risultato sperato col senno che il pensare storico consente, non il senno di poi, si può dire che forse non poterono mai maturare oggettivamente le condizioni perché l'Unione Sovietica trovasse vantaggioso per lei uno scambio a fronte del quale da un lato chiedeva a Mussolini di far bella figura e di liberarsi di un problema, quello che eventualmente Gramsci arrestato illegalmente gli morisse in carcere, oggetto di campagne internazionali furibonde, in cambio di che? Quale ne poteva essere il vantaggio? Per quel che era la concezione, poi certo sempre più ossessiva, ma un po' a tutto tondo della sicurezza e dell'interesse statale sovietico nelle relazioni internazionali. Quindi forse si può dire che sebbene Gramsci ci abbia sperato e ci abbia buttato la vita e i suoi compagni abbiano cercato di aiutarlo, magari talvolta in maniera maldestra, compiendo anche gravi errori, ma questa è un'altra questione, questa era la percezione del prigioniero. Dal punto di vista storico forse si può dire che quelle condizioni non maturarono mai e di fatti risulta che l'Unione Sovietica non promosse mai, non compì mai l'atto di una richiesta diretta a Mussolini, proprio per mancanza di ragioni di scambio. Benissimo. La seconda questione invece che mi pare di poter ben sottolineare è il problema del dissenso di Gramsci e nei confronti, nel senso politico naturalmente, di Gramsci nei confronti e del partito bolscevico e nei confronti del suo stesso partito del PC, in specie dopo la cosiddetta svolta della politica di classe contro classe e del social fascismo. Ma è anche la questione del dissenso di quel grumo di problemi che si addensano intorno alla parola d'ordine della Costituente. Qui per esempio tu ti distacchi dall'interpretazione che alla fine degli anni 70 dette Paolo Spriano intorno a questo problema, se non sbaglio. Sì, allora diciamo che oggi appare molto più evidente sulla base di un progredire delle ricerche e soprattutto dei documenti disponibili che non fu un senso da nulla. Lasciamo stare quello con il Comintern, con l'internazionale comunista già consegnato alla famosa lettera del 14 ottobre 1926, che pur sarebbe interessante riproporre, ma se no il tempo non ci basta. Parliamo del dissenso con il partito italiano come terminale del partito della rivoluzione mondiale, cioè dell'internazionale comunista e quindi soprattutto dal 1928 in poi come sistema al servizio dell'interesse statale sovietico. Non si può più parlare dal 1928 di autonomia dell'internazionale comunista se mai fosse esistita davvero prima. Il dissenso è radicale perché la politica che l'internazionale impone al partito italiano in una celebre riunione dell'esecutivo dell'internazionale del luglio 1929 viene poi applicata con zelo da Togliatti, sebbene la delegazione italiana in quella occasione, costituita da Togliatti, Greco e di Vittorio, avesse resistito a difendere invece le particolarità nazionali già costruite da Gramsci negli anni in cui aveva dato vita al nuovo indirizzo e alla nuova linea politica del partito tra il 1924 e il 1926, circa il modo di combattere in un paese che unico in Europa all'epoca era in presenza di un regime totalitario fascista e quindi senza condizioni minime di legalità. La svolta del Comintern significa una lettura della fase che Gramsci respinge in toto e cioè la crisi del 1929 è il preannuncio della crisi finale del capitalismo, non ci sono tappe intermedie, non ci sono alleanze che tengano, il problema è prepararsi all'insurrezione. Anche in Italia? Anche in Italia. È ovvio che Gramsci rigetta in blocco questa prospettiva e è piccato con i suoi compagni, non perché non capisca la necessità di subirla, ma perché è critico verso il modo troppo, tra virgolette, zelante di applicarla, ma soprattutto, e questo è il vero nodo, perché Gramsci ha una visione del fascismo, sviluppa un'analisi del fascismo che è inibita dopo il 1928 al gruppo dirigente del PCT fuori dal carcere e ne segue, non è vero che non fosse informato, leggeva di tutto, poteva leggere di tutto, ne segue attentamente le divisioni interne, le oscillazioni e quindi ha un'idea di come si possa fare politica contro il fascismo, insinuandosi nelle sue divisioni, anche facendosi forti del fatto che un partito comunista era pur sempre il terminale di una grande potenza verso la quale il fascismo italiano aveva una molteplicità di interessi divergenti e convergenti e quindi è Gramsci, quel Gramsci, sempre più critico delle semplificazioni che l'antifascismo internazionale nazionale e italiano è tenuto, è costretto, è capace di fare e questo lo mette in grave dissenso, tanto da elaborare una parola d'ordine come quella della Costituente che propone nel carcere di Turi, facendo qualcosa che oggi nascerebbe allibiti, il capo del partito formalmente ancora il segretario che in un carcere fascista dice chiaramente ai suoi che la politica del partito fuori e la politica dell'internazionale è sbagliata, mette a repentaglio durissimamente e drasticamente la sopravvivenza del partito stesso, non è che Gramsci non lo sapesse come si facevano e si disfacevano i partiti e i loro segretari a Mosca, ma comunque no, ed è una parola d'ordine che se la si legge alla luce dell'analisi che la sostiene, non c'è bisogno di pensare che sia una ripresa della parola d'ordine dell'Assemblea Repubblicana del 24-26, perché è sostenuta da ben altra analisi che corrisponde ad una ben altra fase dell'economia, della politica e della storia mondiale, quella a grosso modo che comincia nel 29. Molto chiaro. Senti, io ti ringrazio molto di essere venuto qui a parlare di questo tuo volume che se non sbaglio mi dicevi prima è arrivato alla terza, ristampa in pochi mesi e ti chiedo un consiglio di lettura. Ma stiamo in argomento, nell'ipotesi che chi ci ascolta sia invogliato a leggere questo libro, forse può essere sollecitato a leggerne un po' di antefatti, una storia della vita e del pensiero e dell'azione di Gramsci quando era uomo libero almeno dal 1914 al 1919, perché è il periodo sul quale esiste ormai un bellissimo libro di storia che credo voi abbiate anche presentato, è di Leonardo Rapone, si chiama Cinque anni che sembrano secoli e è edito da Carocci e io lo raccomando con tutto il cuore. Benissimo, allora avevamo visto giusto. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.